La ripartenza delle attività di elezione dei ricoveri medici e chirurgici e di specialistica ambulatoriale presso le strutture ospedaliere e i distritti sanitari è stata disposta dalla Regione Campania a partire dal 4 maggio per garantire la continuità dell'assistenza, soprattutto a fasce particolari e fragili della popolazione, quali i pazienti cronici, a coloro che necessitano di nuovi inquadramenti clinici o terapeutici oppure specifici percorsi assistenziali. Quest'ASL Salerno è impegnata a garantire una graduale ripresa delle attività degli ambulatori, ospedalieri e distrettuali, privilegiando anche modalità di accesso alternative fino alla completa attivazione delle misure di sicurezza previste. Particolare attenzione viene dedicata alla nuova organizzazione delle attività in funzione dell'attuazione di tutte le misure tese ad evitare la possibilità di contagio per i pazienti e per gli operatori. La direzione aziendale ha disposto a tal fine l'individuazione di locali e spazi idonei caratterizzati da percorsi e sale d'attesa dedicate e da un'adeguata organizzazione degli accessi e delle prenotazioni secondo le modalità e i requisiti dettati dalla Regione Campania. In riferimento agli spazi orari previsti per tali attività programmabili e differibili è stato disposto che siano preferibilmente utilizzati per l'assistenza a fasce particolari di popolazioni quali pazienti cronici o quelli fragili e a quelli che richiedono nuovi inquadramenti clinici o terapeutici. Per tali prestazioni e al fine di garantire adeguati standard di sicurezza saranno previste modalità alternative di erogazioni quali la consultazione telefonica con numero dedicato che sarà comunicato al paziente all'atto della prenotazione e laddove possibile la videoconferenza. Nelle ore dedicate all'ambulatorio inoltre il medico specialista assicurerà la piena disponibilità a ricevere e ad effettuare chiamate nonché a prendere visione per via telematica degli accertamenti effettuati dal paziente al fine di assicurare le necessarie indicazioni terapeutiche che si ritiene indispensabili.